nemmeno il tempo di distendersi che la fronte dei dipendenti comunali e dei rappresentanti sindacali si contrae nuovamente nel pensare al 27 di questo mese e allo stipendio di novembre ieri l'atteso annuncio dello sblocco dei fondi da parte della tesoreria relativi alla mensilità di ottobre dopo un calvario durato più di 20 giorni tra incontri istituzionali, assemblea permanente dei lavoratori e una manifestazione di piazza che venerdì scorso ha paralizzato municipio e capoluogo i primi versamente sono comunque destinati agli operatori sociali e riguardano 4 delle 15 mensilità arretrate poi sarà la volta dei 570 impiegati di Palazzo Castropignano oggi torna la preoccupazione per la nuova imminente scadenza di fine novembre che induce le organizzazioni di categoria a rimanere sul chi va là e a non revocare ancora lo sciopero indetto per il 2 dicembre come dire se i soldi non arrivano davvero noi incrociamo di nuovo le braccia ma il sindaco Pio Del Gaudio e il suo team di governo tirano dritti per la strada intrapresa nella convinzione che la dichiarazione di dissesto dell'ente era e resti l'unica via da intraprendere per permettere al comune di uscire dalle sabbie mobile dei debiti accumulatisi negli ultimi 20 anni C'è una crisi generale che è locale ma è anche nazionale però credo che la città di Caserta sia in qualche modo pronta a risorgere e a rinascere ovviamente il contributo di tutti è ben gradito io sono stato definito in queste ore il sindaco che fa gli annunci e quant'altro penso che stiamo dimostrando con l'amministrazione che le cose che diciamo le facciamo testimonianza è anche la prossima apertura della biblioteca comunale è chiaro che se poi succedono eventi o qualcuno si mette colpevolmente di traverso le cose non si risolvono subito una cosa però mi preme di dire avevamo ascoltato qualche giorno fa in particolare venerdì che non avremmo mai pagato gli stipendi perché non c'erano i soldi o non avremmo mai pagato la 328 perché non c'erano i soldi ecco il pagamento di oggi dimostra che i soldi c'erano e chi si affannava a dire cose diverse era evidentemente in malafide l'opposizione dal canto suo non resta a guardare oggi conferenza stampa sulle gravi questioni legate alle scelte della maggioranza di centrodestra grazie a tutti